Rudolf von Laban ha portato il nome del Monte Verità in tutta la coreografia del novecento. Vi è una tradizione molto chiara che dal Monte Verità porta alle avanguardie coreografiche nella prima e nella seconda metà del secolo breve trascorso. Naturalmente in primo luogo il riferimento va a Marie Wigman, la quale fu allieva prediletta dalla prima volta in cui giunse presso la scuola estiva nel 1913 provenendo dalla scuola di Jacques Del Croce e proprio al Monte Verità, tempo dopo, e la ebbe a creare la sua danza più celebre di Ex Entanzi, la danza della strega, creata in uno stato di possessione quasi in una delle capanne aria-luce che stavano appunto al Monte Verità per la scuola estiva di von Laban. Naturalmente è chiaro che Marie Wigman ha aperto essa stessa poi una scuola importante a Dresda e gli spettacoli che lei stessa proponeva in solo o con la compagnia delle sue allieve e seguaci ebbero tanto successo quanto anche reazioni estremamente negative. Di fatto ella nel suo percorso verso il Monte Verità era stata guidata da un grande artista dell'espressionismo, Emil Nolde, ossessionato dalle danzatrici, che le aveva parlato della scuola di von Laban. Naturalmente Marie Wigman ebbe poi successo in età matura, dal 1930 negli Stati Uniti, e qui la sua influenza portò il Monte Verità anche dall'altra parte dell'oceano, il metodo von Laban, perché ebbe come assistente prima ed allieva Anja Holm, che ha avuto un peso molto importante nella storia della danza negli Stati Uniti, e a sua volta Anja Holm fu la maestra di Alvin Nicolais, che è uno dei maggiori coreografi statunitensi. Peraltro poi vi è anche un'altra linea, non meno ricca, che spiega come Marie Wigman avesse portato anch'essa, come Charlotte Barra, una sacralità importante nelle proprie azioni coreografiche. Basti leggere una testimonianza di Friedrich Glauser, nella sua memoria Dada, Ascone ed altre memorie, in cui la definisce come una suora con un abito severo, dalle pieghe rigide, che tiene le braccia attaccate al corpo come per rappresentare il desiderio. Sempre dalla scuola di von Laban nasce la straordinaria parabola di Kurt Iohs, che porta il teatro dei gesti e dei simboli verso una rappresentazione politica, come nel caso del Tavolo Verde, lavoro coreografico importantissimo che rappresenta l'Europa che va verso il proprio baratro della guerra. Egli creò la famosissima Folkwang Tanzschule e qui creava i suoi spettacoli fino a che il regime nazista gli chiese di licenziare i danzatori ebrei, si rifiutò e andò anche egli in esilio in Inghilterra. Da quella scuola, da quella lezione che deriva sempre dal Monte Verità, nacque tutto il teatro danza tedesco. Le allieve predilette di Kurt Iohs furono in ordine, Pina Bausch, Reinild Hoffman e Susanne Linke.